xur in 60 secondi lo trovate sul viaggiatore l'arma della settimana è la scarlata un cannone portatile esotico davvero ottimo per il cacciatore abbiamo gelo n1 quando si scatta le granate i corpo a corpo e le schivate si rigenerano più velocemente e schivare aumenta la velocità di scatto un buon pezzo per il cacciatore anche se ne prediligo altri per il titano abbiamo barriera reazione ac di zero le uccisioni corpo a corpo accumulano energia nella barriera e quando si colpiti da un corpo a corpo l'energia liberata causa un'esplosione devastante mi piace davvero molto questo esotico del titano infine per lo stregone abbiamo protocollo fuoco stellare le granate a fusione possiedono una carica aggiuntiva e si rigenerano più velocemente le uccisioni con granate a fusione ricaricano l'energia dalla fonte davvero un buon pezzo per la lama dell'alba un buon pezzo per la lama dell'energia liberata